So raga, sono Valentina Lattanzio e oggi sono super contenta perché come vedete guardate quanti pacchi che mi sono arrivati da questo sito che si chiama Banggood che mi ha contattata e mi ha dato a disposizione 80 euro del quale ho scelto un po' di cose e sono contentissima e quindi adesso le spacchetteremo insieme Il fatto è che non mi ricordo nemmeno le cose che ho scelto perché le ho selezionate un po' di tempo fa quindi sono super emozionata e super contenta Ok raga, iniziamo! Vediamo cosa ci sarà mai qua dentro? Aspetta che... cosa c'è qua dentro? Allora, ma come cavolo si è andata ad aprire? Nooo, bellissimo! Adesso si che me lo ricordo raga, osservate questo è un portasapone bellissimo che è automatico, io l'ho scelto apposta perché secondo me, allora, quando ci si deve lavare le mani alla fine tu vai lì con le mani sporche Ma se tocchi il sapone per farlo uscire, comunque non è molto igienico perché lo sporchi, quindi questo è perfetto perché metti sotto la mano e scende da solo Oh santo cielo, lo adoro, non vedo l'ora di usarlo, guardate! Quindi mi andò a piangere, è bellissimo! Guarda! C'è no, vabbè! Ma è bellissimo ancora! Cioè, ma io adoro che passerò le giornate così, ma state scherzate! È bellissimo! E adesso andiamo avanti No, è uscito da solo, aspettate che ho sporcato tutto, quindi Oh, raga! Aiuto, non si ferma! Allora, mi sa che lo devo tenere... No! Oh, aiutatemi! Lo devo tenere premuto, vero? Così, sto sporcando tutto Oh, l'ho spento! Anche questo, che cos'è? Ma che cos'è che ho preso raga? Non me lo ricordo nemmeno, ma... Cosa? Si chiama... Motion Activated LED Night Light Oh santo cielo, ma... Perché ho comprato ste cose? Ma che cosa mi serve poi? Forse ho capito! Ma va! No, raga, cioè, se spengo... Perché non me lo aspettate, eh? Raga, ma quanto può essere bello! Questa è la mia lucina per il gabinetto Quanto posso adorarla, raga! È bellissima! Cambia pure il colore! Ma va, raga! Che figata è, guardate! Così non avrò più il problema di andare in bagno di notte Cioè, appena mi avvicino si accende Quanto... Rosso! Questo, ragazzi, è bellissimo! Appena l'ho visto sul sito me ne sono innamorata Ma ce n'erano anche di altri tipi Ma questo proprio mi si... Mi si diceva proprio tantissimo! Guardate, ed è un bel telomare! Un bel telomare tutto colorato, guardate! Cioè, ma quanto posso adorarlo? È bellissimo, raga! Guardate che bello! È tipo un mandala! Io me lo volevo pure tatuare Però mamma mi spezza le gambe Fragile! Com'è fragile? Cos'è che ho preso? Oh, aspettate! Oh, oh, oh! Che bello, raga! No! Ma è bellissimo! Questo anche per andare a ballare è il top! E sapete che si usa? Belli... Oddio, questo ok, ma andate qua addosso Bellissimo! Questo che cosa sarà mai? Oddio! Star Master! Led Interchanging Colors! Questo è bellissimo Perché io adoro tutte le lucine un po' strane Tipo che si vedono al buio tutte colorate E infatti l'ho scelta appunto per questo! Vediamo cosa ci sarà mai qua dentro Ma questo è ancora più bello! Bellissimo! Ma l'ho messo tipo un po' storto O metto questo su weekend O quest'altro per andare a ballare Poi è vero, datemi dei consigli E ditemi quali mi piacciono di più Non dirmi che forse è Oh my god Raga tutte le tonalità di marroni Perché io di solito infatti come vedete Metto tipo il colore più chiaro qua Poi lo sfumo col marroncino più scuro Poi lo alterno col marroncino più chiaro Forse è l'ultimo pacco Sì è l'ultimo pacco Questo lo adoro veramente Ho scelto pure questo Questo serve per sistemare le unghie Perché come vedete io adoro sia truccarmi Che sistemarmi le unghie Quindi da un lato te le lima Dall'altro te le leviga E dall'altro non lo so Comunque è bellissimo Guarda che bello Faccio vedere tutto Ma poi Non sapete che cosa sono E adesso ve lo dico subito Sono dei palloncini giganti Come si fa a gonfiare una roba origine Oh raga Ok va bene Tralasciamo mi giro la testa Perché adesso spengo No raga vabbè Ma io mi ero dimenticata di aver selezionato cose così belle Guardate Questi è proprio un set di pennelli Ho scelto il colore rosa qua sotto Perché diciamo che più mi appartiene E lo preferisco molto di più In confronto ad altri colori Ma guardate ragazzi Ci sono tutti i tipi di pennelli Quindi i pennelli per il blush Per gli occhi Sono bellissimi E adesso La parte finale La parte che più adoro Guardate che cosa ho preso Visto che io ho il problema dei soldi Visto che ho le mani bucate Quindi Se ho tipo le monete in mano O banconote Io le spendo subito Perché mi piace comprare cavolate Ma perché fa sto verso A parte che Guardate Dovrebbe uscire Un panda Ma il verso Ma li ho rubati Ma il verso è di una scimmia Mi sa che hanno sbagliato No io non ci credo Dai ma non si può sentire Ma perché Che tenere Una mia scimmietta panda Ma quanto posso adorare Comunque raga Con i pacchetti Abbiamo finito Ringrazio tanto Banggood Per le splendide cose Che mi ha inviato Perché le adoro tutte Non vedo L'ora di utilizzarle Veramente Guardate sto palloncino Quanto è gigante Dovete capire Che comunque io Ho la fobia dei palloncini Ma di questi palloncini Così grandi Non ho paura E li adoro Quindi raga Vi saluto Seguitemi su Facebook Instagram Su Youtube Mettete like Se volete Condividete i video Non lo so Se volete Datemi dei consigli Sotto al video Commentate Ciao raga Un bacio Alla prossima Assoluti Assoluti Assoluti